Non sembra finire la conta dei danni dovuti al maltempo. Sapri, una delle località più colpite dalle forti raffiche di vento, deve pagare anche un costo artistico agli accadimenti meteo degli ultimi giorni. A venire giù, infatti, rompendosi di conseguenza, sono state anche le statuette poste all'ingresso del complesso di Santa Croce, una Madonnina e un San Francesco. L'area, molto amata dai sapresi, non sembra avere pace nell'ultimo periodo. Anche l'installazione di Edoardo Tressoldi, che solo recentemente era stata posizionata dall'amministrazione comunale, sempre a Santa Croce, è stata irrimediabilmente danneggiata dal vento di questi giorni. Ed è l'ennesima sconfitta per un progetto, quello denominato Derive, mai decollato, e per un rapporto, quello con l'artista di Valenza Internazionale Tressoldi, già autore di altre opere a Sapri, divenuto oggetto di polemiche proprio a seguito della fine prematura delle sue installazioni. Quella caduta in questi giorni ed oggi rimasta nei giardini di Santa Croce era stata posizionata da poco nel complesso, sempre con l'intento di richiamare gli scavi archeologici e la villa romana presente in loco per valorizzarli e attrarre nuovi fruitori, così come era nelle intenzioni del progetto Derive. L'opera doveva così consentire di recuperare il discorso avviato nell'estate 2017 e ovviare alla rimozione anticipata del veliero in rete metallica realizzato sul mare di fronte alla specola e poi rimosso improvvisamente dopo soli tre giorni, quando invece la durata dell'esposizione doveva essere di circa tre mesi. Lo smontaggio avvenne dopo una giornata di mal tempo, ma la società a cui era stata affidata l'installazione parlò di furti avvenuti a danno dei cavi di sostegno. Di qui la decisione, contenuta in una delibera di giunta dello scorso ottobre, di provvedere ad una nuova installazione del costo di circa 65.000 euro. Ma ancora una volta non è andata bene per Sapri, almeno fino ad un eventuale ripristino. La struttura è caduta giù per il vento ed è rimasta danneggiata.